Ci sono anche alcuni bambini e due donne in stato di gravidanza tra le persone, una settantina circa, che il 30 dicembre scorso hanno occupato a Cosenza lo stabile dell'hotel centrale. L'albergo era di proprietà di Mimo Barile. Si tratta di un edificio importante nel cuore della città, ristrutturato con fondi pubblici e poi rimasto tristemente chiuso in seguito alle note vicende giudiziarie dell'ex consigliere regionale, condannato a quattro anni di reclusione per aver sottratto mezzo milione di euro dalla fondazione Field Ente in House della regione Calabria, di cui era presidente. Affidata ad un custode giudiziario, la struttura ricettiva è rimasta chiusa in attesa della vendita all'incanto. Tre aste però sono andate deserte, la quotazione in questa fase è scesa da 6 milioni a 2 milioni e mezzo di euro. L'interno nel frattempo è stato parzialmente depredato degli impianti, ma nel complesso i locali si sono conservati in buono stato. Il gruppo dei senza tetto, coordinati dal comitato Prendo Casa, ha trovato una sistemazione nelle varie camere, ancora attrezzate di reti e materassi. Manca l'acqua ma c'è la corrente elettrica, gli ospiti, prevalentemente stranieri, sono in parte famiglie sotto sfratto, che non hanno i mezzi economici per permettersi un affitto, altri vivevano per strada raggiandosi in rifugi di fortuna. I volontari continuano a ricevere quotidianamente richieste di un alloggio provenienti da quelle tante sacche di emaginazione nascoste nell'oscurità della notte. Uomini e donne dal passato travagliato e dal futuro incerto che tirano a campare senza mai entrare ad avere una prospettiva di vita dignitosa. Lo stabile Aterp di Via Savoia, occupato da più di un anno e ormai saturo all'hotel centrale, ha consentito di ampliare la platea degli spazi disponibili in questo circuito dell'accoglienza, in bilico tra la solidarietà e la illegalità. I cosentini sono dalla vostra parte? Alla maggior parte nota questo fatto che ci sia tanta gente che vive per strada, che vive ai margini della nostra società e in qualche modo il fatto che in questa emergenza fredda che c'è in questo momento si sia trovato una soluzione tampone, naturalmente dal basso, sicuramente è stata vista in maniera positiva. Salvatore Bruno per la Cineus 24.